Tra le principali fonti di inquinamento la combustione a legna e anche il traffico diesel. Come ha spiegato sempre nel corso della conferenza stampa l'assessore regionale all'ambiente Claudia Terzi, di cui sentiamo l'intervista. Assessore Terzi, la regione Lombardia è la prima regione d'Italia a dotarsi di un PRIA. Obiettivo misure strutturali, ha detto. Misure strutturali e non più emergenziali, che mi pare che sia poi la stessa teoria che ha avallato il ministro Orlando l'altro giorno quando era ospite presso la nostra regione. Non è più possibile pensare ad interventi spot di un paio di giornate che di fatto hanno un forte impatto. Generalmente poi intervengono negativamente sui cittadini che vengono avvisati all'ultimo momento e che non riescono quindi ad organizzarsi. Anziché ha sì una valenza ovviamente educativa che non va trascurata, ma distinguiamo bene ciò che deve essere fatto per far capire ai cittadini quali sono i comportamenti più virtuosi e quello che effettivamente ha dei riflessi positivi sull'inquinamento. Le domeniche a piedi nello specifico hanno un effetto assolutamente relativo ed anzi si è visto nel tempo che nei giorni successivi lo smog aumenta a dismisura. Quindi non è quello, servono interventi strutturali, servono dei cambiamenti sostanziali e costanti nel tempo per migliorare la qualità dell'aria in Lombardia. Tra le regioni interessate c'è, ora però bisogna rivolgersi all'Unione Europea perché come è stato detto anche dal Presidente Maroni quest'area, diciamo adottare queste misure richiede più costi. Assolutamente sì, noi l'abbiamo già fatto perché anche la sottoscritta a giugno nel corso di un confronto appunto con la Commissione Europea in particolare con il commissario Potocnic ha avanzato appunto la necessità di riconoscere la specificità del bacino padano così come lo hanno avanzato altre 11 regioni che non è solo la Lombardia, sono le regioni appunto del nord Italia e altre regioni per esempio in Germania così come l'ha fatto la Catalunia. Perché abbiamo una conformazione orografica, una conformazione geografica che non ci permette nonostante tutti gli sforzi di raggiungere i limiti che in maniera del tutto sia omogenea ma di fatto non possibile, non realizzabili per noi, sono stati fatti dall'Unione Europea. Io dico sempre, ciò che fa il vento in Danimarca non lo possono fare i 10 milioni di Lombardi a meno che tutti i Lombardi decidano di fermarsi completamente e di chiudere non solo, insomma di non utilizzare più non solo le auto ma di non produrre più alcunché. Chi comprerà Euro 5 ed Euro 6 probabilmente in futuro sarà esentato dal bollo? Beh questa è una delle misure che stiamo valutando e che il Presidente Maroni sostiene fortemente proprio come incentivo per appunto la sostituzione di quello che è tra i mezzi che inquinano di più l'aria lombarda, cioè il diesel in particolare ovviamente il diesel Euro 3. Vi ricordo che ad oggi sono già vietati, in alcune zone è vietata la circolazione degli Euro 2. Tra un paio d'anni, quindi a partire dal 2016 massimo, si è pensato di allargare, di estendere il divieto anche agli Euro 3 per una zona, per quelli che sono i 209 comuni dell'area critica, poiché appunto questo con le biomasse sono la principale fonte di inquinamento dell'aria lombarda. Ultima specificazione, la legna, è un obiettivo anche ridurre le emissioni provenienti dalla combustione della legna. Sì, poiché appunto dicevo le due cause fondamentali dell'inquinamento della nostra area sono l'utilizzo della legna e l'utilizzo dei veicoli diesel. La legna anche se fa parte ormai dei comportamenti da tempo, da sempre, dei comportamenti dei lombardi e della tradizione lombarda, pensiamo solo per esempio alle valli bergamasche da cui provengo, dobbiamo prendere atto che è appunto una delle principali fonti di produzione del PM10, quindi delle polveri sottili e della diossina, quindi sostanze anche particolarmente pericolose e non solo inquinanti. Non vogliamo vietare l'utilizzo della legna, non vogliamo spegnere tutti i caminetti della Lombardia, vogliamo far capire ai cittadini lombardi che bisogna usarla saggiamente, ma non solo per l'ambiente, anche per la propria sicurezza devo dire, quindi la usiamo, bruceremo legna, ma la bruceremo in maniera coscienziosa affinché quindi non ci siano queste emissioni di PM10 e non ci sia appunto la produzione per esempio di sostanze pericolosissime e velenose come la diossina.